eccoci tornati con il processo all'ABC del calcio subito il nostro ospite direttamente da Palermo Rosario Carraffa direttore di tuttopalermo.net ciao Rosario buonasera a tutti voi ben ritrovati grazie per aver accettato il nostro invito allora siamo qui in questa tavola rotonda per analizzare il calcio in tutte le sue sfaccettature e non solo tra poco anche una brevissima parentesi brevissima una parentesi con Gianluca Scarlato dedicata agli altri sport e allora Rosario la notizia del giorno è quella triste comunque per la città di Palermo ci ha lasciato Maurizio Zamparini eh sì la dipartita di Maurizio Zamparini è una notizia che ha sponvolto tutti i tifosi rosa nero sparsi anche nel mondo e non ovviamente residenti solo a Palermo una notizia naturalmente inaspettata anche perché sembrava che stavano migliorando le proprie condizioni così non è stato ed è morto come voi avete giustamente detto beh il presidente del Palermo come sappiamo ha avuto tanti elogi in città per avere fatto grande il Palermo il miglior presidente della storia senza dubbio ad oggi ricordiamo 12 stagioni in Serie A e 5 in Serie B ben 5 qualificazioni in Europa League ovviamente prima Coppa UEFA e poi gli ultimi due anni Europa League che hanno fatto sicuramente un grande il Palermo in quegli anni e soprattutto con quella finale anche poi persa in Coppa Italia contro l'Inter l'Inter che vinse quell'anno davvero tutto quindi diciamo un grande Palermo tanti uomini sono passati tanti giocatori importanti a Palermo e tra poco ne parleremo e tra poco ne parleremo Gianluca un presidente vulcanico ma comunque si è amato beh ricordiamo solo chi ha portato da Di Bala a Cavani Pastore Pastore cioè Lugatoni Lugatoni Balzaretti Zaccardo Balzaretti Niccoli che poi aveva avuto alterne vicende Ilicic cioè ecco stiamo parlando veramente che la favorita era un campo ostico andare a giocare soprattutto in alcuni periodi dell'anno quando si doveva salvare e un gioco come quello di Guido Linn Espresso insomma un Palermo che era uno dei punti fermi della Serie A una piazza calda e non a caso è stata scelta per una partita delicata anche della Nazionale lo possiamo dire e tra poco ci arriveremo anche su quello Matteo Sansone il tuo ricordo di Zamparini e la fotografia di quel Palermo poi andiamo sugli interpreti del grande Palermo di Zamparini in tanti anni con Rosario Caraffi ci sono arrivati tanti messaggi social oggi in onore di Zamparini il più bello probabilmente è stato quello di Di Bala che ha parlato proprio a cuore aperto anche quello di Ilicic il cuore spettato sì 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 insomma bellissimi messaggi il mio ricordo di Zamparini è un ricordo legato all'infanzia perché insomma è il primo calcio io mi ricordo benissimo chiaramente il Palermo di 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 Miccoli mi ricordo il Palermo di Ilicic di Amauri anche insomma non ci dimentichiamo Amauri che era un grande centravanti ma anche il Palermo dei campioni del mondo perché il Palermo di Grosso di Zaccardo di Barzagli scusate sì Barzagli di Chier di Chier è vero ha fatto la trafila è arrivato fino al Milan insomma è una delle semi big della mia infanzia è stata il Palermo Rosario Carraffa grandi uomini grandi giocatori prima di andare su questo mi racconti però quella storia che a Palermo magari conoscete molto bene di Maurizio Zamparini ma noi che siamo qui noi trasmettiamo da Roma e andiamo in diretta in tutta Italia ma magari in tanti non la conoscono che è quella lì che praticamente Zamparini durante i grandi match non guardava la gara dallo stadio ma si faceva un giro in taxi allora noi praticamente eravamo sempre ovviamente a seguire il Palermo per le partite lui praticamente veniva allo stadio molto prima però poi si faceva un giro per la città quindi non seguiva allo stadio la partita neanche nella sua stanza aveva la stanza ovviamente allo stadio lui praticamente a partita quasi finita poi ripassava dallo stadio quindi diciamo non riusciva a vivere la partita seguendola dal vivo diciamo così ma magari con un po' una radiolini in macchina per sapere i risultati però poi la cosa importante era dire che si riguardava la partita per vedere gli errori che magari il Palermo poteva commettere o no e magari poi parlarne con il tecnico che noi sappiamo si era un presidente vulcanico però aveva davvero un buon dialogo con tutti gli allenatori tranne qualcuno ovviamente che ha avuto grandi problemi è vero che ha sonegato tanti allenatori però qualsiasi allenatore poi ha detto che a Palermo effettivamente ha avuto la possibilità è stato sempre apprezzato per questa sua essere vulcanico alla fine sono più i lati positivi che quelli negativi e poi oggi anche ti dico non ce ne sono più di presidenti che la vivono in quella maniera della partita e che sono così sul pezzo come si vuol dire e poi volto la cosa importante che giustamente è da dire che era anche disponibile con la stampa parlava quasi con tutto ogni tanto ti mandava anche a quel paese se lo chiamavi in un momento particolare però a volte magari era così istintivo e spontaneo e ti diceva delle notizie che magari i direttori sportivi o i stessi giocatori e i procuratori non volevano darti io per esempio mi ricordo un caso stavamo facendo una diretta l'avevamo chiamato come ospite lui in diretta ci disse abbiamo comprato Mantovani e là fu un putiferio perché sia il di essa che stavano ancora chiudendo praticamente sia i vari procuratori un po' tu hai avuto lo scoop hai fatto la notizia e abbiamo fatto poi noi infatti un'esclusiva che poi hanno riportato praticamente tutti e qualche anno prima è successo lo stesso con Amauri quindi sicuramente è molto istintivo dai molto istintivo e poi comunque davvero passionale amava comunque la propria squadra in questo caso il Palermo che lo seguiva in tutto e per tutto però non riusciva a seguire le partite dal vivo questo è una cosa vera Rosario qual è stato il giocatore più amato che ha portato a Palermo beh ce ne sono tanti quello più amato per le vicende calcistiche sicuramente Fabrizio Miccoli che ha fatto la storia a Palermo come marcature però poi tanta passione c'è stata sicuramente per Pastore per Bazzaghi per Corini per Di Bala questi sono forse i giocatori quelli più amati dal popolo rosa nero e poi qualche anno prima comunque anche obiettivamente Luca Toni che poi è rimasto sempre attaccato comunque ai colori rosa nero e quando c'è qualche manifestazione da fare a Palermo Luca Toni insieme a tante altre colori viene a Palermo anche a giocare c'è un direttore spottivo che si chiama Walter Sabadini esatto si sta dimostrando tuttora tuttora però all'epoca se possiamo parlare così veramente delle cose incredibili Sansoni per Carraffa no io sono d'accordo con Rosario Carraffa insomma Zamparini è stato probabilmente uno degli ultimi presidenti tifosi di questo nostro calcio che si sta sempre più esterizzando se possiamo definire questo termine con presidenti e proprietà estere ecco la domanda per apportare il Palermo di 10-15 anni fa a quello di adesso come siamo messi da dove possiamo ripartire? beh sicuramente è tutto diverso intanto sia le potenzialità naturalmente della squadra perché il Palermo di oggi gioca come voi sapete in Serie C Genere C quello naturalmente un Palermo sì che è partito dalla Serie B però aveva già dei signori giocatori ricordiamo anche lo stesso Grosso Maresta giocatori che praticamente venivano dalla Serie A e che erano venuti solo di passaggio per poi andare in Serie B quest'anno invece quello di quest'anno quello attuale è un Palermo che si deve sicuramente costruire un Palermo che vuole lottare per tornare in Serie B la società naturalmente cerca sempre degli investimenti come ha detto lo stesso padrone Dario Mirri l'attuale ovviamente presidente del Palermo e quindi si spera sempre in qualcosa di diverso per ripetere quegli anni sembra essere difficile in città però effettivamente è una piazza che comunque sente sempre il calcio basta che vedere i tifosi che c'erano allo stadio Rosario i tifosi sono vicini a questo Palermo che ha 37 punti è sesto in classifica c'è davanti un Bari che è lanciatissimo lo scorso anno c'era la Ternana in quel girone e crollò diciamo a metà del cammin la squadra barese quest'anno no ci sta veramente provando però c'è un Palermo che è partito sicuramente meglio quest'anno rispetto allo scorso anno in una partita ti ricorderai la commentiamo insieme addirittura con 10-11 giocatori positivi al Covid scese in campo addirittura con il secondo portiere oggi è un passo in avanti l'obiettivo playoff è l'obiettivo minimo anche se poi c'è Virtus Francavilla che sta facendo comunque un grande campionato assieme alla Turtis ecco altri ostacoli altri nomi però è un Palermo che veramente quest'anno ce la può fare arrivare fino in fondo beh sicuramente sì quest'anno è più preparata dopo un anno di rodaggio della Serie C a giocatori sicuramente più importanti e a un tecnico di esperienza un nel ritorno che è ovviamente quello di Silvio Baldini che ha preso il posto di Filippi ricordiamo che il Palermo quest'anno è stato anche secondo poi ha perso qualche partita diciamo di troppo soprattutto in trasferta perché in casa sicuramente fa molto bene quindi deve migliorare in trasferta e se migliorerà in trasferta secondo me potrà giocare fino alla fine ricordando che comunque c'è anche il Monopoli una sorpresa di questa Serie C Gino A e C e poi naturalmente Avellina e Catanzaro dovevano essere le corazzate per poter lottare con il Bari per il primo posto però sembra attualmente che sono i Bari e sta a perdere il primo posto in questo momento Rosario tra poco ti faccio una domanda sul nuovo protocollo della FIGCE quindi mi raccomando Deborah mentre dopo di lui come è cambiato il modo di gestire il Palermo calcio dopo Zamparini ovviamente beh sicuramente è tutto diverso nel senso che qua ci sono i ruoli il presidente fa il presidente il direttore sportivo fa il direttore sportivo allenatore allenatore mentre con Zamparini non è possibile perché Zamparini voleva fare tutto metteva diciamo il naso un po' dappertutto quindi interveniva e parlava con il direttore sportivo parlava con l'allenatore addirittura dava anche le volte anche dei consigli e parlava pure con i giocatori era molto vicino ai giocatori quindi qua possiamo dire che siamo a una società normale come quelle che si vedono ora dove ognuno non è più familiare non è più a questa gestione diretta mentre con Zamparini era diciamo diverso è bello però è bello era totalmente un altro calcio Rosario allora l'ha detto prima giustamente Gianluca Scarlata il problema covid c'è in serie C si è fatto sentire in maniera prepotente beh anche in serie A non abbiamo scherzato sì però in serie C è diverso anche lì perché poi se ne parla anche meno è una cassa di risonanza Gianluca Scarlata minore rispetto alla massima serie Rosario questo nuovo protocollo è una boccata d'aria fresca serviva serviva ricordiamo con 8 positivi si va in campo su una rosa di 25 giocatori il 35% dei positivi è il limite nel tetto massimo con un positivo in più quindi con 9 positività non si scende più in campo quanto può aiutare questo anche la regolarità del campionato in serie C beh sicuramente in serie C tanto perché come abbiamo ricordato poc'anti in una partita il Palermo praticamente ha giocato con 10 uomini per tutta la partita in riserva c'era un portiere quello della primavera quindi nessun cambio aveva fatto in quell'occasione la compagine è rosa quindi questo può aiutare sicuramente per la regolarità delle campionate soprattutto può aiutare anche le squadre per poter giocare e avere un campionato regolare sotto tutti i punti di vista quindi io sono positivo su questa scelta e sono convinto che le cose potranno andare sempre meglio anche nel campionato di serie C Certo Rosario ora invece arriva la nazionale una data importante questa Palermo tanti tifosi vorranno andare allo stadio a seguire ovviamente la nazionale alla Barbera contro la Macedonia una partita sicuramente importantissima il Palermo solitamente porta fortuna lo speriamo anche noi intanto per superare questo primo traguardo per poi giocare ovviamente la finale per poter accedere però diciamo c'è tanta risonanza e soprattutto i tifosi vogliono essere vicini alla squadra i tifosi che verranno sicuramente da tutta la Sicilia ma con quale nazionale arriviamo però ecco questo è il punto con quale nazionale questo si dovrà naturalmente capire sia per via degli infortunati sia per altre ovviamente scelte del Cittimancini dobbiamo vedere poi quale nazionale effettivamente arriverà a Palermo noi speriamo ovviamente intanto la migliore per passare questo primo step come dico io per poi naturalmente poter giocare la finale perché sarebbe un peccato non vedere la squadra campione d'Europa non giocare il mondiale sicuramente è anche una follia lasciamelo dire Gianluca arriviamo con Ballotelli mi sembra visto che Mancini io sono un po' critico su questo nel senso siamo andati a ripescare un ex giocatore questo purtroppo è dovuto Mancini l'ha spiegato un po' per gli infortuni non vuole arrivare con la coperta corta e vuole avere la coscienza pulita con Mario Ballotelli e ha rispolverato un po' tutti addirittura c'è solo uno stage di allenamento lo voglio vedere perché una cosa è sapere sì va bene tutto però la realtà è che a noi servono i gol perché sono mancati i gol a questi tagli al gioco lo fa diciamo fa un buon centrocampo anche di qualità mancano i gol se non c'è immobile non c'è nessuno io lo capisco anche il CT che si vuole tutelare però così non andiamo a nessuna parte però è pur vero che se vai a dire dei ragazzi appena convocati è solo uno stage davanti in conferenza stampa poi li vai anche a smontare a livello sono d'accordo ma tu devi creare prima perché tu scamacca che è un giocatore comunque prospettivo dovevi metterlo con l'Irlanda dovevi metterlo prima dovevi comunque puntare poi vabbè non vai per i rigori Giorginio ma questo è un altro discorso dovevi comunque fare un percorso di ricambio dopo l'Europeo vinto è quello che ha fatto l'Inter dopo il triplete quello che ha fatto tutte le squadre insomma l'Inter dopo il triplete è crollata il cambio generazionale però sono d'accordo in parte io alla fine penso se ne sia parlato un po' troppo di questo stage della nazionale era l'unica cosa che c'era probabilmente anche per quello però chiediamo al direttore direttore da quant'è che la nazionale italiana non era così divisiva abbiamo parlato i nazionali sono accesi gli animi vero questo è vero da tanto tempo perché secondo me comunque c'è anche la preoccupazione di non poter andare al mondiale sarebbe davvero una brutta faccenda ripeto ancora una volta per la squadra campione d'Europa ci sarà anche l'assenza di Chiesa per l'infortunio Barella cioè ci sono tante anche assenze anche io effettivamente non avrei puntato sul ritorno obiettivamente di Balotelli neanche per lo stage su questo concordo con quello che avete detto io avrei puntato di più su Scamacca sicuramente che sarà l'attaccante della nazionale del futuro senza ovviamente nulla a togliere agli altri quando ho dei grandi esperti in qualsiasi materia vado ad attingere la loro sapienza in questo caso attingo la sapienza non me ne volere Matteo Sansoni di Gianluca Scarlata e Rosario Carraffa perché io cambio un attimino argomento ma c'entra sempre con la nazionale Gianluca ti do un piccolissimo vantaggio perché vado prima dal direttore direttore Sebastiano Giovinco è un giocatore che ha fatto un'intervista e ha dichiarato sono pronto a giocare in serie A in serie B e in serie C Palermo ci pensa c'è qualche squadra che ci pensa se non Palermo allora ricordiamo che il Palermo qualche pensierino l'aveva fatto però stiamo parlando un po' di tempo addietro naturalmente quando il giocatore aveva fatto capire di voler tornare a giocare in Italia perché non è il primo anno che lo dice però adesso secondo me non dico i giocatori che io punterei sicuramente magari anche una squadra di serie B o di metà classifica per quanto riguarda e allora direttore Carraffa perché Giovinco sia adesso e Balotelli non è nazionale volevo fare tutto questo giro per arrivare qui ho fatto scacco matto ho fatto scacco matto grazie ha giocato comunque scorretto il problema di Balotelli è il problema dal punto di vista mentale a me non piace il giocatore perché non è disciplinato secondo me non è cresciuto da questo punto di vista perché comunque un giocatore che secondo me poteva fare tanto è di più rispetto a quello che ha fatto effettivamente perché comunque le tecniche e le qualità questo giocatore l'ha sempre avuta e le ha dimostrate nelle maglie dove ha giocato però secondo me dal punto di vista mentale gli è mancato qualcosa un po' qualcosa che è mancato per esempio a Cassano secondo me però poi voglio sapere anche su Giovinco perché sono curioso io sapevo che il Palermo infatti il direttore è preparatissimo Rosario Carraffa sotto ogni punto di vista io lo so bene andare a giocare in Canada dove ha messo Giovinco vuol dire poi è andato in Qatar ho dubbi anche su per esempio su Insigne che è andato lì ha fatto una scelta di vita non ha rinnovato con Napoli ha fatto esatto una scelta di vita Giovinco è l'opposto di Ballotelli Ballotelli dal punto di vista fisico è integro manca insomma un po' di continuità e di testa Giovinco di testa c'è sempre stato non ha fatto le ballotellate la formicatomia che giocatore ma anche per 4 anni in più Giovinco però dal punto di vista fisico già era devastato prima cioè sta a pezzi bisogna vedere adesso in quel campionato come sta ma oggi insomma ho dei grossi dubbi punto di vista un giovane ma l'esempio Rosario Carraffo è quello di Giuseppe Rossi tornato alla SPAL in Serie B e oggi è il compleanno di Giuseppe Rossi tra l'altro insieme anche a Batistuta insieme a Batistuta bravo è vero 53 anni un po' più di oggi è vero credo hai una domanda Deborah tu? no gli stavi parlando la domanda tu perdono di Giovinco beh sì sicuramente sì si potrebbe rilanciare come ho detto io dico concordo con quello che avete detto noi non si pensa a una squadra ovviamente di alto livello ma una squadra magari di metà classifica vuole lottare per la salvezza una squadra di Serie B secondo me Giovinco si può inserire per portare la sua esperienza e poi un giocatore dal punto di vista tecnico e tattico anche qualitativamente a me piaceva però ovviamente si deve poi valutare anche lo stato di forma questo naturalmente lo deve valutare è la società che lo va a ingaggiare eventualmente Matteo Sanso sì no perché io come ben sapete ormai ragazzi sono un patito di statistiche di giovani anche talenti ecco qualche nome di questo Palermo beh come i giocatori sicuramente ce ne sono diversi per esempio Soleri Silipo soprattutto il numero 10 del Palermo giovane ma Soleri è quel Soleri che giocava nella Roma sbaglio sì 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 è quello che giustamente nell'ultima partita ha coltito un valo praticamente a porta però diciamo anche Andrea Silipo anche viene dalle giovani della Roma e lui è il numero 10 sicuramente un giocatore che non sta trovando continuità però è molto giovane soprattutto come ha detto lo stesso Ebaldi se capisce di avere determinate qualità e riesce a correre un po' di più può diventare davvero un giocatore importante e poi non dimentichiamoci comunque Lorenzo Lucca vent'anni è ritornato a Palermo in Serie D aveva fatto bene Lecce non aveva trovato spazio in Serie B è venuto e l'altra volta ha fatto un bellissimo gol a giro che ha fatto anche emozione allo stesso giocatore che si è messo a piangere perché per lui si trattava della prima rete in un campionato professionistico perché aveva giocato in Serie D e non era ovviamente un campionato professionista che bello Gianluca comunque sono queste piazze che ti portano sempre ad un calcio romantico che purtroppo non esiste calcio romantico bello il modo di descriverlo Palermo è una piazza importante abbiamo visto già anche l'anno scorso il debby con il Catania insomma ci sta bene come ci sta il Bari come ce ne stanno tante altre anche in Serie B bisogna capire anche gli investimenti mi sembra che questa proprietà faccia sul serio la piazza spinge segue perché abbiamo visto insomma tanti tifosi anche andare agli allenamenti a seguire quindi questo rosario ce lo può testimonare calcio da altri tempi mi è piaciuto anche questo nuovo termine che hai detto insomma esterizzazione cioè il fatto di tante squadre estere manca al manico manca la proprietà qua a Palermo c'è vero vero manca identità anche nel calcio italiano di questo periodo ecco probabilmente quando si dice i soldi non fanno la felicità probabilmente nel calcio si può rapportare a quello all'esterizzazione lo usiamo ci piace e dunque grazie al direttore di tutto Palermo.net Rosario Carraffa per essere stato insieme a noi grazie a voi naturalmente un saluto a tutti e buona sera a presto un saluto alla bella Sicilia la bella Sicilia sono le 22 e 24 tra poco chiudiamo e poi torneremo qui parleremo anzi no dopo la pubblicità andremo direttamente da Riccardo Borgia con la sua cartellino verde e poi torneremo qui per i saluti finali si parla di un argomento molto interessante dedichiamo qualche minutino a questo delle sviste arbitrali dal punto di vista legale nella nostra serie A legale? legale quindi prima parlavamo anche di questa a pomeriggio con noi se non sbaglio di Zlatan Ibrahimović un grande signore per quanto riguarda la partita con il Milan bravissima è entrato nello spogliatoio dell'arbitro bravissima e cosa ha fatto? gli errori possono accadere a tutti accadono a noi in campo è giusto che accadono anche in campo al direttore di gara perché così è da ex arbitro posso dire che è una grande ammissione da parte di un giocatore capire l'errore da parte di due professionisti un giorno se puoi ce la racconti la tua storia da un altro giorno Gianluca Scarlata ma perché no sono curioso settimana scorsa eri in redazione non eri davanti alle tue camere noi ne abbiamo parlato mi dà la tua fotografia di quel Milan spessi ce la porteremo avanti a lungo ma abbiamo visto come un arbitro può sbagliare e poi dopo come ammetterlo anche questo sbaglio il fatto è che bisogna capire se quell'arbitro tecnicamente ha la preparazione per andare a arbitrare quella partita oppure l'emozione non saper gestire la tensione perché anche questo l'esperienza fa l'esperienza in quei minuti finali parte un fischio poi sei stato anche sfortunato ok però diciamo che ti sei complicato la vita da sola quindi l'esperienza fa che non riesci a complicartela può accadere poi ci sei messo tutto male perché poi l'ho passegnato pure lo spezia cioè nel senso così oggi ti dico quella partita compromette una parte del cammino del Milan non compromette lo scudetto perché siamo ancora beh si è parlato anche di compromissione generale io l'ho fatta la domanda nella trasmissione precedente perché tre punti di quel momento in quel Milan che settimana è dietro è a privo di 10 giocatori stava e rimonta insomma sta bene adesso il Milan fa tanto in quella giornata ha compromesso ha compromesso una parte sicuramente a punto di vista psicologico e della credibilità esatto è un accordo è riflesso di quei tre punti mancati che probabilmente avrà è verissimo però bisogna dire che anche nella classe arbitrale ci sono stati tanti positivi quindi tanti di serie B sono dovuti andare a tappare dei buchi di serie A quindi questo ha portato a nuove leve nell'ambito magari non pronte non pronte ma addirittura fare un processo per una partita che poteva essere semplice dal punto di vista anche tecnico che poi in realtà non è così risultato Matteo Sansoni ma è giusto anche il risultato che è stato dato all'arbitro retrocessione addirittura deglassare è una cosa che non sta né in cielo né in terra scusate perché deglassare non sta né in cielo né in terra se permettiamo come giusto che sia gli arbitri di sbagliare come i calciatori come dire sbagli un calcio di rigore ti faccio andare a giocare nella formazione primavera o nell'under 23 è un segnale bruttissimo della classe arbitrae lasciatemelo dire è un segnale bruttissimo anche perché metti a repentaglio anche la diciamo la riuscita anche di un protocollo generale perché ricordiamo che la Lega ha unito le tre sezioni degli arbitri quella della serie A della serie B e della serie C hanno fatto un unico si dà un'immagine brutta anche del nostro sistema arbitrale e poi scusate ve la butto lì la varrum avete visto la cosa sponsorizzata esatto quindi una società di cripto esatto quindi è e anche lì dovremmo capire perché quello è un argomento che è terra banco perché io non ho mai visto in Premier League forse accadeva anche in serie A con un'altra marca che la classe arbitrale fosse sponsorizzata ma adesso addirittura dalle criptovalute sembra un po' un discorso allora io ho due discorsi velocissimi uno perpellato per via di la verso un arbitro di serie A che è stato poi fermato per altre vicende e feci a lui questa domanda perché prendendo ad esempio gli altri sport il tennis la pallavolo gli sport americani perché non c'è la chiamata di una squadra e lui mi ha risposto guarda che noi in sala monitoriamo tutto quindi non serve la chiamata perché negli altri sport va avanti la partita poi la squadra la squadra chiede il check il occhio di falco il challenge insomma si chiama a seconda degli sport in una certa maniera ma la sostanza è quella dice no noi la facciamo sempre in maniera comunque tacita ok e questo ci sta quello che mi piacerebbe vedere nel calcio perché negli altri sport c'è addirittura nella pallavolo in diretta si sente l'arbitro che commenta l'azione quando i due capitani i due giocatori vanno sotto piacerebbe che a fine partita non durante ma a fine partita ci sia anche il commento di un arbitro l'ho fatto l'ho chiesto ad un arbitro non è propriamente con Ronald Jamona Sport Academy perché no te lo spiego io mi hanno risposto mi hanno risposto la classe arbitrale non è pronta anzi scusami la classe arbitrale è pronta è lo spettatore è il tifoso che non è pronto ma fare cosa in America ed è anche l'interlocutore il giornalista che non è pronto c'è allo stadio l'arbitro di football che lo dice in diretta quello che chiama nell'ambiente uno sport dove gli animi non sono così caldi e non è che i soldi non ci siano però ha detto bene forse è anche la tifoseria la cultura generale su cui verte il nostro calcio lui può parlare agli occhi cioè può parlare qualcuno magari che ha rappresentato però per questo caso l'AIA l'associazione italiana arbitri ha chiesto scusa al Milan ha chiesto scusa da parte dell'arbitro che poi quest'arbitro per ben tre giorni i giornali ne hanno parlato tre giorni sui giornali è un caso eclatante è un caso eclatante ma non è un processo non se ne è parlato così tanto quello è stato sbaglio tecnico quello è stato bene fischiare i quattro minuti prima è uno sbaglio tecnico ma si può fischiare i quattro minuti prima finisce che magari si è perso l'orologio e quindi va a tempo complimenti a Riccardo Borgia e la sua cartellino verde che vedremo tra poco perché ha toccato degli argomenti molto molto interessanti con l'avvocato Carlo Rombolà e quindi tra pochissimo lo ascolteremo però diamo lo spazio alla pubblicità 21 e 31 cartellino 22 e 31 cartellino verde e poi noi ci rivediamo tra pochissimo e poi